Un rapinatore senza cuore e scrupoli arrestato da un carabiniere libero da servizio a Cava, un extracomunitario fermato a Pagani, mentre in fastidiva donne intenta a far la spesa. Drammatico episodio invece a Castel San Giorgio, fatti di cronaca che si sono susseguiti di ora in ora. Partiamo da Cava di Tirreni dove i militari della locale tenenza hanno arrestato un 48enne di Siano per tentata rapina in un'abitazione. L'uomo, pregiudicato, era entrato nella casa di un'anziana per mettere a segno il colpo studiato a tavolino. La particolarità sta nel fatto che la donna ha addirittura offerto all'uomo una piccola somma di danaro, nella speranza che poi questi avrebbe lasciato l'abitazione senza farle del male. Invece, la donna è stata aggredita. L'uomo le ha stretto le mani al collo quasi fino a soffocarla, cercando di farsi indecare dove fossero nascosti i beni di valore. Le grida d'aiuto lanciate dalla donna, oltre a mettere in fuga il malvivente, hanno richiamato l'attenzione di un carabiniere della tenenza che, libero dal servizio, non ha esitato ad accorrere sul posto. Intuita la gravità della situazione, ha inseguito a piedi il rapinetore, raggiungendolo e bloccandolo in piena sicurezza fino all'arrivo dei colleghi. La nonina è stata soccorsa dai militari che hanno richiesto l'intervento dei sanitari del 118, che hanno riscontrato fortunatamente solo lievi lesioni al collo. Il 48enne, invece, è stato portato al carcere di Forni. A Pagani, ieri sera, invece, un uomo di colore ha seminato il panico tra la gente, infastidendo a quanto pare numerose persone che erano in via nazionale tra i negozi per le ultime spese del fine settimana o per una semplice passeggiata. L'uomo, secondo quanto sia preso, visibilmente ubriaco, avrebbe cercato il contatto con alcune donne, si sarebbe anche denudato in alcuni punti di via nazionale, avrebbe urinato vicino ad alcune automobili in sosta. Poi sarebbe diventato addirittura violento, tanto da tentare di aggredire alcune passanti. Una donna ha accusato un malore, trasportato in ospedale. Sono stati allertati i carabinieri che, dopo momenti convulsi, sono riusciti a portare via l'extracomunitario. Ed è stato un sabato che ha lasciato sotto sciocchi i cittadini di Castel San Giorgio, in particolare quelli della popolosa Frazione Santa Croce. Una donna di 61 anni è morta a seguito di un terribile e quanto sfortunato evento. TP, queste le sue iniziali, era in compagnia del nipotino. Il marito era da poco uscito di casa, in località Pantrice, a Santa Croce. Si è ritrovata fuori dal cancello principale dell'abitazione, insieme al piccolo, e si è accorta di non avere con sé le chiavi. La donna, che tutti hanno descritto come sempre attiva, tenace e piena di energia, ha così provato a scavalcare la recinzione che delimita la struttura. Si è però ferita, infilzata dal ferro appuntito della cancellata. Una ferita grave, che non avrebbe fermato però la donna, che è riuscita a lanciare da prima l'allarme, pur cominciando a perdere molto sangue. La ferita ha reciso comunque l'arteria principale. Per lei non c'è stato nulla da fare, nonostante l'arrivo dei soccorsi.